Un riconoscimento importante è quello ricevuto dal comune di Castel del Giudice, piccolissimo paese molisano capace di mettere in campo progetti che hanno avuto plauso e interesse a livello internazionale. Federazione Club Unesco e Regione, con l'assessorata allo sviluppo economico, hanno sponsorizzato la partecipazione al premio. Sono due progetti. Il primo riguarda la trasformazione di terreni abbandonati da diversi anni in meleti, quindi abbiamo dato il nostro contributo ad arricchire un patrimonio già estremamente bello come l'Alto Molise. Il secondo è quello di aver ritrasformato le stalle del paese ormai abbandonate da tanto tempo in un albergo diffuso, mantenendo le caratteristiche architettoniche e rurali di una volta. C'è stato già qualche ritorno a livello economico e a livello anche sociale? Dal punto di vista economico, l'azienda dell'agricoltura è già da dieci anni che opera, che produce, che garantisce prodotti di qualità e anche occupazione sia stabile che stagionale. Ma ci abbiamo una grandissima attenzione. Proprio ieri il Comune di Torino mi ha chiamato, il Comune di Torino ci ha dedicato uno spazio istituzionale che loro hanno nel Salone del Gusto perché vogliono che il Castello del Giudice, con le minile e col borgo, rappresentino delle eccellenze del territorio nazionale. I progetti premiati hanno unito forze pubbliche e private e i cittadini per un'idea di sviluppo che sfrutta le potenzialità del territorio, è stato spiegato. I cittadini hanno raggiunto un alto livello di integrazione insieme alla pubblica amministrazione, insieme al sistema imprenditoriale, realizzando insieme un RSA, una produzione di mele biologiche e il bellissimo Borgo Tufi. Questo Borgo è stato ristrutturato grazie a degli imprenditori che hanno avuto la lungiferanza di investire in questo piccolo comune che oggi è stato certificato come caso di eccellenza non nazionale ma internazionale. Questo è l'esempio e della testimonianza di un'eccellenza molisana che non parte solamente dal privato, inteso quanto tale come imprenditore, ma anche dai cittadini. Stiamo parlando del Borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, ha avuto un premio straordinario, riconoscimento internazionale della fabbrica del paesaggio del 2014, un risultato appunto, risottolineo straordinario per un piccolo comune della provincia di Sernia di 350 anni.